Sembra ormai provata la vicinanza all'estremismo islamico di Zayl Thompson, l'uomo che ha attaccato con una accetta a quattro poliziotti nel Queens di New York. L'aggressore aveva preso di mira gli uomini e si è messo a seguirli, nascondendosi dietro la pensilina di un autobus. Quando un fotografo freelance li ha fermati per scattare una foto, Thompson si è lanciato verso di loro e ne ha colpiti due con l'accetta prima di essere ucciso. Le indagini dovranno dimostrare prima possibile se questa fosse parte di un'azione più vasta che potrebbe rappresentare un rischio, ha detto un portavoce delle autorità. Per ora possiamo dire che non è il caso, anche se continuiamo a indagare. Durante l'attacco i poliziotti che hanno sparato hanno colpito inavvertitamente una giovane alla schiena. La ragazza è stata ricoverata in ospedale e sottoposta a intervento. Le sue condizioni sono stazionarie ma non è ancora fuori pericolo.